... ... ... ... 5, 1, 2, 3, 4, 5, scienze della tua... Qual è? Il muscolo più forte del nuovo... ...primo dopo! ... 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 Che cosa è successo? Chi è orizzato faccio? Dopo quattordici anni Una così bella coppia Quattordici anni insieme non fanno una coppia bella e felice fanno una coppia lunga conservazione E dove volete chiamare la signora che si uccida che vai a vedere? Ma è logico! Dalle amiche! Ma non so! Aspetta! Calmiamoci prima! Ma non possiamo essere citate perché se non sono citate vi dite come ti amo! Per favore, calmatevi adesso, ok? Giusto! Lasciatevi! E così, madame! Sono tutte quante! Scusate che oggi non so quanto nessuno tutti mi danno i filari Forse perché ti vessi neanche a tutti! Perdonatemi, mi distrutto! Volete che mi sbagli? Che bella vista che c'era quassù Infatti sono a dodici piano No, sono soltanto un bel Lo so, scusate un attimo! No, no, no! Devo andare in barrio Da sola? Ci vado sempre da sola Perché? Ah, in particolare E non ci rimane? Diciamo, finchè ho finito Ma come vuoi che faccia? Ma come vuoi che faccia? Potrebbe tagliarsi i posti? Oppure potrebbe pulire la scatola di pastiglie? Sì, ma è male degli ospiti Non c'è niente Il massimo che può fare è Inbogliare un asciugamano Può puntarsi dalla finestra E' vero, la finestra c'è lì Venti centimetri per venti Potrebbe infilarci la testa E guardarsi la finestra sulla nuca Sì, va bene Allora può puntarsi anche giù dal bar Sì, va bene Sta piangendo Credici andrò a fare due pastiglie E dove andiamo a fare due pastiglie? Non lo so Lungo il fiume Il fiume Voi sapete qualcosa? Eh, che cosa? Sì, lo vedo dalle vostre facce Voi avete paura che io commetta qualche sciocchezza? Ma che cavallo mi attenzano? Oh, sì Dopo quattordici anni di matrimonio Quello sporco schifone Dove la mia? No, Fionetto, spero Non cercare di prendermelo Non cercare di prendermelo Non cercare di prendermelo Vivere così Noi siamo le tue amiche Con noi fai paragoni No Nulla Nulla Non cercare di prendermelo Non cercare di prendermelo Non cercare di prendermelo Grazie a tutti. 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 Dov'è il tuo centrino? Il mio cosa? Il tuo sottobicchiere. Ho comprato tutta una scatola di bellissimi sottobicchieri da appoggiare sul tavolo. Come guasco? Io pensavo fossero biscotti al cioccolato. E' un'altra scatola di bellissimi sottobicchieri da appoggiare. E' un'altra scatola di bellissimi sottobicchieri da appoggiare. E' un'altra scatola di divertimento che intendi dire stammi bene a sottobicchieri. A questo mondo ci sono due sottobicchieri. La natura ha voluta che ogni tanto la natura ha voluto che ogni tanto l'altro sesso entri per così dire in relazione con il nostro. Invece di dire uomini, parla chiaro. Se proprio non sono stata chiara, se proprio devo darmi un nome, va bene, uomini. Ah, ma questa è proprio comica! Ma se sono settimane che non vedo un uomo niente di striscio. Il lato comico mi scusi completamente. Ci sono due spagnoli che andano in questo stesso palazzo e sono simpaticissimi. E tu come lo sai? L'altro giorno siamo rimasti bloccati insieme in ascensore. Mi hanno invitato a cena. Andrebbero benissimo! Oh, molto interessante! E io lo sarebbe! Ma chi se ne prega che entrano dalla porta a punto uno e del tuo? Promettiti soltanto la porta, non chiamarli Camillo. Camillo di me! Si chiamano Manolo e Jesus. Ma chi telefoni? Amici, voglio che sappiano da me, prima che dai loro amici, che la loro mamma parla poco di buono. Manolo e... Jesus. Ma come si scrive Jesus? Come caccio? Ma no, come è Jesus! Jesus? Jesus! Ma poi cosa si chiama Jesus? Si chiamano Gesù, ma sei un altro! Domenica ha detto che io sto cercando a Gesù e che gli dico ai bambini, eh? Che faccia un po' di nuovo! E poi faccia un po' di Gesù! E' meglio che faccia qualcosa di così! Non può di fare! Non può di fare! Non può di fece! Non può di fare! Non può di fare! Non può di fare! E poi? Se siete in contatto con la vostra mamma, adesso tutti insieme, hmmm. No, no, no. Ma chi non fa hmmm, non avrà positività per tre anni. Che si legge positività, si scrive sesso. Quindi, un bel voto. Io non mi assumo nessuna responsabilità per la ragione della cena, sia chiaro. Ma chi se ne prega della tua cena? Fiorenza, abbiamo l'appuntamento con due uomini, non è mica una gara di cucina. E ti prego, togliete questo gremiule dalla mammata. Oh, no, no. Beh, benvenuti, amigos. Oh, amigos, muy bien, facciamo progresso. Jesus, hai qualcosa da dire? Seguro. Con la vostra, ma profunda felicitazione. Ma il nome e io abbiamo portato flore fresco. E dolce fresco. E un po' di clamento per alimentarsi. Il cuore di animale dalla mammata, non è molto, ma perché lascia? No, mamma No, mamma Per favore, Julian, ho provato la mamma. No, mamma Io spero che le due le due le gustano ma le due le più amare. Sono amare? Si Il dolce sono amare? Sì, allontano. L'amalino? Amaletti? Non sono amari, sono degli amaletti! Che belle! Che faccio! E' un messaggio! Dopo lo spiega a curvo! Un gusto che gioi sei pronto ad allontare. Un modo all'universo è nel volto di un riviato. Un cielo del viso! Quanto il sole è nel solito! E' una lì che c'è! Questa! Questa è alfale, no! No, no! E' così, no! Siamo in questa segna? Ah, portatevi pure dove volete! Questa è l'estate... Tavo in casa! Questa è l'estate... Questa è l'estate... Questa è l'estate... Grazie a tutti. Oh, te l'avevo detto, lo spagnolo funziona sempre. È vero, è bello l'ultima volta quando ci siamo tutti francesi e è stato di santo. L'ho preso subito per Pinocchio. Ma, per favore, avete tenuto in mente questa storia di Pinocchio? Dove vuoi? Lascia guardare. Tu stai zitto. Va bene. Però, ma ti siedi, eh? Magnoli, ma... Sì, zitto. Fortuna, no? Ne vada. Sì, è una nevada. E così... Siete francesi? Sì, tutti e due. Di dove? Di madre. Natti a Madrid, ma versione di Barcelona. E da quattro anni siete qui? Tres? Tres anni. In vacanza? Nonno. No vogliamo. Muchi. Sì, 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 sì. Noi lavoriamo per l'Iberia. Siberia? Ma è molto carissimo. No, per l'Iberia. La linea di via di spagnolo. Sì, siete figliati? No, no. Ma veni stradini. Grazie. Bene, io bisogna proprio che faccia un bacon di spagnolo. A giorno d'oggi se una signora non conosce il significato di caballero non vuole neanche andare alla tua letta tranquilla. Muy sabia rosa. Muy spiritosa. Andate andate con flabecco. C'è un po' di via senza flabecco. Però non si imprega per me. Per la propria carità. Non vi non si imprega per me. Che solo vive in amora. Eccolo. Ecco. In questo? Ci accorano una muy grande differenza tra Spagna e Italia. In Spagna se accorano muy conservadores, muy tradicionals. Eccolo il mondo deve portare casa all'Alpañanza. La bagnotta? Sì, insomma. Grazie a te. Ma quale corretta? Qua è la bagnotta. Allegria, allegria! Che cosa è successo? Oh, ma non è il problema. Allegria, in dieci minuti pot se muppare le paella, casa nostra, che sono la fine del mondo. Nooo! Trebuie che paella ci sono un gelato in scatola, più buoni che non è. Ciao ragazzi! Ciao! Andiamo! Aaaaaaah! Che amante! 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 Spaghetti! Questa, questa è bella, questa è proprio da ridere! Perdonami, cosa diavolo c'è da ridere? Non sono spaghetti, sono linguine! E ora sono scocciata! Nooo! Io ho capito che cosa ti fai che sia in te! A te scoccia che io ieri ti ho passato la tua notte di sesso! La mia notte di sesso? Ma se da quando ci sei tu nella mia vita Io non riesco neanche a fare sogni sporchi perché eri tu e me li punisci! Me la faccio vedere io! Voilà! Eravamo tutte stanchi dei sottomicchieri, dei tovagliolini, delle arance amare, del vaporizzatore alla banana! Ma cosa c'è di fare una spagnica? E non è fuori da sé? E io sono proprio bella! E io no! Chi crede che sia stata la prima a buttarla fuori? Camillo! Camillo è stato il primo! Tu sei stata la seconda! E con chiunque andrà vivere adesso per la terza! Tu lo capisci? È Fiorenza! È lei che ti caccia da sola! Il macchino che l'ensi in macchini, non le sto per dire! Sono venuto a prendere i vestiti di fiò! Ma vestiti di fiò? Fiò, la mia amica! Fiorenza, ma sei davvero sicura di voler andare a vivere con i tuoi uomini? Per una porta che si chiude, si apre il portone! Ma hai visto che la mia amica è andata così in fretta? Non so com'è! Tutto a un tratto mi sento meglio! Mi sento... galleggiare! Coliglia, devo ringraziarti! Ringraziarmi? Eh, perché cosa? Per le due grandi cose che hai fatto per me! Prendi la ricetta tua e sbattiti fuori! e le attivate i vestiti di fiò! Prece la ricetta tua e sbattiti! Le attivate i vestiti di fiò! Prendi la ricetta tua e sbattiti! Cheg me a sbattiti fuori! C'è un testare! Sbattiti fuori! Chia la ricetta tua e sbattiti! C'è un testare il nostro bambino! Grazie a tutti. Grazie a tutti.